C'è anche l'ex assessore regionale alla sanità Ruggero Razza tra gli indagati sull'attività dell'azienda sanitaria provinciale di Messina in cui è accusato di induzione in debita a dare o promettere utilità. Proseguono sul caso che è stato un vero e proprio terremoto per la sanità messinese le indagini della procura, del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame. L'ex assessore Razza sarebbe indagato per induzione in debita a dare o promettere utilità. La notizia è stata resa nota dopo un nuovo atto di conclusione delle indagini, emesso a carico di cinque indagati che va a sostituire quello emerso lo scorso gennaio che era stato inviato a dieci persone. Secondo l'ipotesi di reato Razza avrebbe abusato della sua posizione di assessore regionale alla sanità per nominare Bernardo Alagna a commissario straordinario dell'Asp 5 di Messina. In cambio Alagna avrebbe promesso di favorire la nomina di Domenico Sindoni non indagato come direttore sanitario della stessa Asp. A pesare in questo caso sono state delle intercettazioni che prima non erano state ritenute irrilevanti ma adesso sì. L'esponente del governo regionale precedente con la nomina alla sanità compare nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari siglato dalle magistrate Roberta Laspeme e Rosa Raffa notificato recentemente dopo i vari colpi di scena che hanno caratterizzato gli accertamenti che coinvolgono insieme a Razza e Alagna anche il deputato Tommaso Calderone, il segretario Alessio Arlotta e il medico Domenico San Mataro chiamato in causa per un'ipotesi di truffa relativa alla gestione dell'emergenza covid-19. Non compaiono più in questo nuovo atto i nomi di altri otto indagati precedentemente inclusi nell'inchiesta tra cui l'ex direttore generale dell'Aspe di Messina Paolo Lapaglia e l'ex sindaco di Messina Renato Accorinti. Le loro posizioni sembrano orientarsi verso l'archiviazione.